...di Musac per la lettera unica cieca in sala Canesaro. ...di fronte ad altra gente, perché il regalo è più grande. ...el suo nostro presente, vorrei donare il tuo sorriso e l'una perché, di volte che la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante. ...non importa, so che dice la gente perché, tu mi hai protetto con la tua gelosia bianca, è molto stanco, il tuo sorriso non andava via, devo partire, però sono il cuore e la tua presenza. ...che se non vengo male, se ripasso la fine, che sei un burrone, non fermo l'uomo di odiare, solo fermo l'uomo di volare, ...60.29 la gara, 0 il risultato, ed è settimo Canesaro, 7 place clear, 60.29.